E alla fine l'affare è andato in porto. Indosserà la maglia bianconera. Il calciatore è stato venduto dal Real Madrid per 105 milioni di euro e dalla prossima stagione giocherà con la maglia dei campioni d'Italia A Madrid gli anni più felici della mia vita, ma era il momento di aprire un nuovo ciclo altrove, ha fatto sapere Ronaldo A lui andranno circa 30 milioni di euro l'anno Grazie